ciao sono qui per proporti una bellissima meditazione che potrai fare sia oggi che nei prossimi giorni cerca una zona in cui puoi trovare un ruscello un fiume o un corso d'acqua di qualsiasi tipo possibilmente naturale cerca un posto tranquillo lungo questo corso d'acqua e comincia a lasciare andare verso l'acqua tutto ciò che in qualche modo senti che non ti appartiene più tutto ciò che senti che in qualche modo non ha più senso trattenere nella tua vita tutto ciò che sei pronto a lasciare andare tutto ciò che hai visto che è il caso di lasciare andare quindi mettiti lì un attimino e con calma pensa a tutte le cose da lasciare andare in questo momento della tua vita e lasciale scivolare dal tuo corpo dal tuo campo energetico nell'acqua ringraziale salutarle e lascia che l'acqua le porti via così che tu possa essere leggero e possa aprire la possibilità a qualcosa di nuovo di entrare nella tua vita proprio creando spazio creando spazio tu apri la porta a qualcosa di nuovo affinché qualcosa di più corretto per te in questo momento possa entrare nella tua esistenza quindi fai questo esercizio e fammi sapere com'è andata a presto ciao